Solitudine, questo è l'argomento di oggi. Quindi benvenuti o bentornati e cominciamo a parlare di questo argomento. La solitudine è una condizione sempre crescente indipendentemente dal luogo, dal genere e dall'età e già questo dovrebbe farci riflettere. La solitudine è una sensazione soggettiva di isolamento o mancanza di connessione con gli altri. È uno stato emotivo complesso che può verificarsi quando gli individui percepiscono una discrepanza tra la qualità e la quantità delle loro relazioni sociali e il livello di connessione che desiderano. La solitudine non dipende necessariamente dall'essere fisicamente soli, ci si può sentire soli anche in presenza degli altri. La solitudine può manifestarsi in diversi modi tra cui sentirsi socialmente disconnessi, emotivamente vuoti o privi di relazioni significative. Può essere caratterizzata da un senso di desiderio di compagnia, di comprensione o intimità. È importante notare che la solitudine è distinta dall'essere solitari, che è una scelta deliberata di essere soli e può essere fonte di ringiovanimento e autoriflessione. La solitudine può avere effetti negativi sul benessere mentale, emotivo e fisico di un individuo. Sentimenti prolungati di solitudine possono portare ad un aumento di stress, ansia, depressione e altri problemi di salute mentale, o anche avere un impatto sulla salute fisica, influenzando i modelli del sonno, la funzione immunitaria e la salute cardiovascolare. Vari fattori possono contribuire alla solitudine, tra cui l'isolamento sociale, la mancanza di relazioni strette, i cambiamenti nelle circostanze della vita, il trasferimento e l'assenza di una rete sociale di supporto. È importante che le persone che vivono la solitudine richiedano supporto, si impegnino in attività sociali, coltivino nuove connessioni e cerchino un aiuto professionale se necessario. Affrontare la solitudine implica costruire e mantenere le relazioni significative, partecipare ad attività sociali e sviluppare un sistema di supporto. È anche importante promuovere la cura di sé, l'autocompassione e la crescita personale per migliorare il benessere generale e ridurre i sentimenti di solitudine. Come si manifesta? Perché alcune persone che hanno costantemente a che fare con gli altri si sentono ancora sole? Come eliminarla davvero? La solitudine può manifestarsi in mari modi e la sua esperienza può differire da persona a persona. Ecco alcune manifestazioni comuni della solitudine. Sintomi emotivi e psicologici, sentirsi tristi, vuoti o depressi, sperimentare un senso di isolamento, desiderio di connessione, sentirsi disconnessi o incompresi, avere una bassa autostima e percepire una mancanza di scopo o significato nella vita. Sintomi sociali, avere poche o nessune relazioni strette, sentirsi socialmente disconnessi anche quando si è circondati da altri, incontrare difficoltà nel formare o mantenere connessioni significative e sentirsi esclusi o tagliati fuori. Sintomi fisici, affaticamento, cambiamenti nell'appetito e nel sonno, diminuzione della funzione immunitaria, aumento dei livelli di stress e un rischio più elevato di sviluppare determinate condizioni di salute come le malattie cardiovascolari. E' importante notare che anche le persone che sono costantemente circondate da altri, ad esempio in un posto di lavoro affollato o in un contesto sociale, possano comunque sentirsi soli. Questo perché la solitudine non è determinata solo dalla qualità di interazione sociale, ma anche dalla qualità e dalla profondità di quelle connessioni. Le interazioni superficiali o transazionali potrebbero non fornire la vicinanza emotiva e l'intimità necessarie per alleviare la solitudine. Per affrontare e alleviare la solitudine, ecco alcune strategie che possono aiutare. Coltiva connessioni significative. Concentrati sulla costruzione di relazioni più profonde e significative piuttosto che cercare solo interazioni sociali. Immesti tempo e sforzi per coltivare legami con amici, familiari o persone che la pensano allo stesso modo e che condividono interessi o valori comuni. Migliora la comunicazione. Migliora la capacità di comunicazione per esprimere le tue emozioni, pensieri e bisogni in modo efficace. Questo può favorire la comprensione e l'empatia e connessioni più forti con gli altri. Partecipa ad attività sociali, partecipa ad attività di gruppo, club, lezioni o opportunità di volontariato in linea con i tuoi interessi. Ciò può fornire opportunità per incontrare nuove persone e sviluppare esperienze condivise. Cerca supporto, contatta amici, familiari o gruppi di supporto quando ti senti solo. Aprire i propri sentimenti e cercare sostegno può aiutare ad alleviare il senso di isolamento. Utilizza la tecnologia, connettiti con gli altri tramite social media, comunità online o piattaforme virtuali che soddisfano interessi o hobby specifici. Queste piattaforme possono offrire opportunità per entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo e che potrebbero provare sentimenti simili. Cura di sé ed autocompassione. Prenditi cura del tuo benessere fisico e mentale. Impegnati in attività che ti portano gioia, pratica l'autocompassione e dai la priorità alla cura di te stesso. Questo può aiutarti a migliorare il tuo benessere generale e aumentare la resilienza contro la solitudine. Cerca aiuto professionale. Se i sentimenti di solitudine persistono e hanno un impatto significativo sulla tua vita quotidiana o sulla tua salute mentale, considera di cercare l'aiuto di un professionista della salute mentale. Possono fornire guide, supporto o interventi terapeutici su misura per le tue esigenze specifiche. È importante ricordare che superare la solitudine è un processo e potrebbe volerci del tempo per trovare le giuste strategie e connessioni che funzionino per te. La pazienza, l'autocompassione e la tenacia sono fondamentali per affrontare e gestire la solitudine in modo efficace. Anche per oggi è tutto. Ciao e al prossimo video.